Siamo con Ancilla Uggioni, attrice lecchese, particolarmente impegnata in questo periodo nell'animazione verso una fascia di cittadini anziani che avviene presso la Casa della Carità di Via San Nicolò, vicino alla Basilica di Lecco Centro. Perché questo impegno? Perché questa scelta di queste iniziative di incontro con le persone della terza età? Sì, prima di tutto buongiorno, grazie di avermi invitata. Dunque, perché questa scelta? Perché ci siamo resi conto che insieme a Roberto Chiesa di Anteas la prima esperienza l'ho fatta con lui, perché leggere i romanzi ad alta voce è come se fosse un audiolibro, quindi la persona anziana che magari è un po' sola, non sa bene cosa fare durante la giornata, ha bisogno di stimoli diversi, viene e ascolta la lettura di un romanzo. In realtà ad Anteas abbiamo fatto quattro incontri di un unico romanzo, mentre alla Casa della Carità faremo vari incontri ma con romanzi diversi, uno più lungo e due più corti, dipende dalle volte. Com'è nata questa carriera artistica impegnata adesso in questo settore che poi ricorderemo anche gli altri? 25 anni fa, anche di più, quando la mia passione teatrale è sbocciata ed è venuta fuori mano a mano, ho fatto l'Accademia di Milano la Paolo Grassi e poi ho cominciato a lavorare con varie compagnie d'Italia e ho girato un po' l'Italia e un pochino il mondo con spettacoli di tutti i tipi. Ora sono tornata a Lecco dopo 21 anni che ero via e continuo nel mio lavoro con teatro, insegnamento, audiolibri, queste esperienze, lezioni private di teatro, di edizione eccetera e sono in giro con vari spettacoli. Fra le interpretazioni recenti e recentissime c'è stata anche la rievocazione di un tragico fatto avvenuto nella ballata del Gelenzone e che ha avuto come ambientazione le storiche trafilerie di Malavedo. Vogliamo ricordare un attimo questa iniziativa che è stata promossa dal corpo musicale o meglio dalla filarmonica San Giovanni di Lecco, 1809, anno di fondazione. Esatto, perché il presidente della filarmonica Angelo Rusconi con cui collaboro per il Medfest, festival medievale, mi ha chiamato come vicepresidente della filarmonica. Io ho sempre adorato la banda e allora ogni tanto insieme alla musica della banda io porto qualche pezzo teatrale. Allora ho raccontato la storia di questo maestro della banda di quell'epoca, fatto tragico e un po' oscuro perché è stato ucciso e mai nessuno ha saputo come fosse andata davvero la vicenda. Questa rievocazione che ha comportato anche una ricerca storica di archivio ha fatto aggiungere qualche elemento al mistero che circonda questa aggressione notturna sull'allora solitaria strada che da Pomedo scendeva alla Orca. Ricordiamo che erano tempi che non c'era illuminazione pubblica, la strada non conosceva il traffico a motore e tutto il resto. Ma in realtà abbiamo raccolto i documenti dell'epoca, perciò non abbiamo svelato cose in più. Abbiamo raccontato attraverso gli articoli dei giornali la storia, come è avvenuta. Per quanto riguarda impegni futuri che vanno oltre questo impegno particolare, meritevole di animazione presso la Casa della Carità, ce n'è uno di particolare rilievo che Ancilla Uggioni vuole adesso ricordare in questa intervista. La ringrazio sì perché abbiamo Corde Rosa che è uno spettacolo sulle donne in montagna che stiamo portando in giro da almeno tre anni e abbiamo una serie di repliche in tutta Italia. Siamo fuori Lecco, siamo a Bergamo, a Peio, al rifugio Lissone, siamo appena stati a Cuneo e abbiamo una tournée estiva molto importante insieme a Francesca Arrigoni, cantante, e Nadir Giori, contrabbasso. Cordate rose in montagna, penso di leggere andando oltre al titolo. E quest'anno è un anno delle cordate rose in montagna perché una spedizione italiana e pakistana ricorderà i 70 anni della grande conquista del K2 che è chiamata la montagna degli italiani. Esatto. Noi raccontiamo storie dal 1800 ad oggi di donne pioniere della montagna, storie vere realmente, quindi tragiche e comiche, fino ad arrivare a Niva e Smeroi dei giorni nostri, che è ancora esistente, ancora viva. È uno spettacolo molto forte, molto impegnativo. Sono previste rappresentazioni prossimamente anche nella zona, nella provincia di Lecco, nel territorio vicino? Allora no, perché l'abbiamo già fatto tante volte a Lecco e ora siamo fuori. La più vicina è la Svizzera, a Livigno, però a settembre. Nel corso della stagione estiva? Sì, esatto, esatto. Prossimo grande impegno, ultima domanda per Ancillo Gioni a livello nazionale? Beh, direi Medioevo Festival, il terzo anno, terza edizione, insieme ad Angelo Rusconi e Arasmusica. Tutto settembre, eventi sul Medioevo, da concerti, spettacoli, conferenze, visite guidate, impegnerà tutto settembre. Il nostro pubblico aspetta perché è la terza edizione, siamo partiti dal Dante Festival e insomma è un impegno molto importante, un evento grosso. Per concludere, diamo appuntamento alle persone di una certa età di Lecco e del suo territorio, mercoledì alle 15.30. Alla Casa della Carità, in via San Nicolò. Vi aspettiamo!